carissimi amici carissimi fratelli e sorelle pace del signore buona giornata dio benedica la vostra vita spero che stiate tutti quanti bene desidero condividere con voi questa mattina due versi che si trovano nella seconda corinzia capitolo 3 il verso 5 e il verso 6 ispirato dallo spirito santo l'apostolo paolo scrive non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venissera a noi ma la nostra capacità viene da dio ed egli ci ha resi anche idonei ad essere ministri di un nuovo patto non di lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica nelle cose della vita terrena le nostre capacità naturali o acquisite sono affinate e temperate dallo studio dell'esperienza dalla pratica eccetera nelle vie dello spirito occorre invece mettere da parte il nostro saper fare ed acquisirne uno migliore occorre svestire infatti l'uomo vecchio per usare un'espressione dell'apostolo paolo e rivestire il nuovo che è creato all'immagine di dio ogni giorno infatti lo spirito santo ci invita ad attingere nuove forze nuovi pensieri nuove motivazioni ai piedi del signore e lì mentre siamo in adorazione ed apriamo la nostra vita nella sua presenza avviene un miracolo e il miracolo è che da cose deboli pazze disprezzate dio riesce a trarre degli strumenti utili eletti preziosi capaci di poter presentare l'evangelo con autorità capaci di essere sale luce di questa terra capaci di servire anche di soffrire di credere di sperare di sopportare ogni cosa e di saper soprattutto innanzitutto amare il signore ci aiuti ci aiuti a non contare sulle nostre forze e a te che magari stai contando sulle tue forze stai cercando di continuare il cammino cristiano basandosi sulle tue capacità voglio invitarti stamattina a fermarti a riflettere e a invitarti ad abbandonare questo tipo di attitudine per non contare più su di te ma per continuare ma per contare sulla grazia del signore contare sulle nostre forze d'altronde è qualcosa che evidenzia una certa forma di orgoglio di superbia che non è la giusta attitudine per poter raggiungere i traguardi che il signore ci pone dall'altro lato però non dobbiamo piagnucolarci autocommiserarci continuare a ripeterci non sono buono a nulla non sono capace di niente perché questo porta allo scaraggiamento e quindi all'inerzia dio ci aiuti ad avere la giusta visione della vita spirituale realizzare che i traguardi che il signore ci pone davanti non li possiamo raggiungere con le nostre forze con la nostra potenza ma solo con l'aiuto dello spirito santo e riconoscere la nostra inadeguatezza è qualcosa che permette al signore di poter operare in modo glorioso quando sono debole diceva l'apostolo paolo allora sono forte perché la grazia la potenza di dio si manifestano nella loro pienezza proprio nella debolezza umana e allora come l'apostolo paolo diceva eppure lui di capacità umane ne aveva perché era uomo di grande intelletto di grande istruzione di carattere forte come diceva l'apostolo paolo appunto dobbiamo dire signore noi non siamo capaci di fare nulla ma sappiamo che con te possiamo realizzare prodigie e prodezze e sappiamo che grazie a te noi possiamo portare avanti il compito che tu ci dai e ci affidi su questa terra dal più semplice al meno semplice perché poi la gloria non deve andare a noi ma la gloria deve andare a te sei tu che dovrai manifestare l'opera tua attraverso di noi a te che ti senti scoraggiato perché magari vedi la pochezza delle tue capacità naturali voglio dirti fortificati nel signore affidati al signore permette al signore di prendere il controllo della tua vita e se senti da parte di dio in modo forte nello spirito di fare qualcosa non ti preoccupare di quello che tu sei capace di fare ricordati che dio che farà le cose e che a lui nulla è impossibile per te che invece pensi di avere grandi capacità grandi talenti e ti lamenti perché magari nessuno ti chiama a svolgere un compito un incarico per il quale tu credi di avere i requisiti giusti voglio invitarti ad essere umile nel cospetto del signore i buoni desideri sono qualcosa di nobile ma se sono accompagnati dall'orgoglio e dalla superbia non riescono mai a raggiungere il loro scopo nelle vie del signore naturalmente rimetti i tuoi desideri nelle mani di dio chiede al signore di servirsi di te permetti allo spirito santo di rendere umile il tuo cuore e allora sarai anche tu uno strumento valido per la gloria di dio sapete bene che saul il primo re di israel avreva grandi capacità ma quando cominciò a sentirsi all'altezza del suo compito anzi allora quando cominciò a pensare di poter fare oltre più di quello che dio gli aveva assegnato cadde appunto nell'orgoglio e nella superbia il regno gli venne tolto lo spirito di dio si allontanò da lui ed egli cominciò ad essere guidato e posseduto da uno spirito che lo disturbava dio ci aiuti perché l'umiltà precede sempre la gloria mentre la superbia precede la caduta e nelle vie della grazia non possiamo permetterci questo perché è in gioco la vita eterna impariamo tutti da gesù che era umile e mansueto di cuore ci aiuti il signore ad avere un concetto sobrio di noi stessi affinché non siamo né orgogliosi né di quelli che si autocommisano e disponiamoci a servire il signore e dio anche per mezzo di noi farà cose grandi e la gloria andrà soltanto a lui che dio ancora oggi ci accompagna e ci benedica pace del signore grazie a tutti